Buongiorno, stamattina parleremo degli scavi nei cantieri. Ho trovato delle nuove dispense che mi sembrano molto chiare ed esplicative e ritengo possano esserti di aiuto. Quindi procediamo con gli scavi nei cantieri. Gli scavi a profanità superiore a 1,50 m sono considerati lavori che comportano rischi particolari e questo è stabilito anche all'allegato 11 del decreto legislativo numero 81 del 2008. Quindi qui abbiamo dei richiami alle norme. Sempre a questo decreto legislativo 81 del 2008. Il piano di sicurezza sui cantieri ovviamente è corredato da tavole esplicative e ove la particolarità dell'opera lo richiede, da una tavola tecnica sugli scavi. Poi abbiamo diversi tipi di scavi, lo splateamento e lo sbancamento. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere un'inclinazione o un tracciato tali in relazione alla natura del terreno da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Queste cose le avevamo viste anche nelle altre dispense, se ti ricordi. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo o per altri motivi sieno da temere, frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura e al consolidamento del terreno. Quindi, nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario, relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio e della platea superiore. La zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. Poi abbiamo diversi tipi di scavi, gli scavi di pozzi, scavi e cunicoli e quindi con le idonee precauzioni. Continuiamo, queste cose le puoi leggere anche da solo perché quello che è importante adesso sapere è che sempre all'articolo 120 di questo decreto legislativo 81 del 2008 dice che è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature Saltiamo anche questa parte che è la presenza di gas e i rischi per i lavoratori nelle opere degli scavi sono prevalentemente il rischio di seppellimento derivanti da cedimento della parete di scavo o parte di essa rischio di caduta dall'alto all'interno dello scavo derivante da cadute dal bordo dello scavo rischio connesso all'uso di macchine e o attrezzature rischi dovuti al contesto presenza di sottoservizi di gas, elettricità, acqua e residuati bellici e il seppellimento derivante da cedimenti della parete di scavo i rischi concorrenti sono rispetto ai rischi prevalenti abbiamo i rischi concorrenti che rispetto ai rischi prevalenti la valutazione dovrà tenere in considerazione il rischio dovuto al cedimento della parete di scavo a causa di sempre accumulo di materiali sul ciglio vibrazioni, scuotimenti presenza di falde acquifere e circolazione di fluidi poi abbiamo la caduta dall'alto all'interno dello scavo la mancanza di protezione dei bordi dello scavo risorgenza di vertigini l'abbagliamento degli occhi la scarsa visibilità colpo di calore o di sole rapido abbassamento della temperatura quindi rischio di danno alla salute e o di natura meccanica derivante dai venti atmosferici vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulla superficie di calpestio abbiamo poi il rischio connesso all'uso di macchine e o attrezzature quindi il rischio è quello del ribaltamento del mezzo contatto con parti mobili investimento o contatto con lavoratori nell'area di lavoro e presenza di sottoservizi interrati rumori e vibrazioni i rischi concorrenti sono quelle situazioni si verificano in quelle situazioni che possono favorire l'investimento da parte di automezzi e quindi questo può essere dovuto alla mancanza di segnalatori luminosi lampeggianti alla mancanza di segnalatori acustici di retromarcia agli insufficienti spazi per la viabilità di cantiere e l'abbigliamento degli operatori a terra e la scarsa visibilità le misure di prevenzione negli scavi e movimento terra questo è molto importante occorre sempre una valutazione geologica e geotecnica sulla stabilità dei fronti una pianificazione degli scavi e della viabilità e delle idonee strutture di sostegno dei fronti di scavo tenendo conto dei carichi addizionali determinato dal peso del materiale accumulato ai bordi della trincea è necessario poi l'installazione di sostegni ed armature secondo gli schemi di montaggio forniti e o calcolati sistemi di drenaggio per probabile presenza di acqua e la valutazione della presenza di impianti interrati quali quelli del gas, idraulici, elettrici bisogna considerare che gli infortuni mortali o estremamente gravi si possono verificare anche se il lavoratore non è completamente sommerso dal terreno veniamo adesso alle misure di prevenzione negli scavi e movimento terra l'utilizzo di macchine e di cantiere conforme alle norme ed in buono stato di manutenzione devono avere la presenza di cabina o telai antirotolamento presenza ed utilizzo di cinture di sicurezza postazione di guida ergonomica mentre gli operatori a terra fuori raggio di azione delle macchine scavatrici hanno le procedure di comunicazione poi c'è la pianificazione della viabilità di cantiere e degli accessi al posto di lavoro e questo l'avevamo già visto gestione delle situazioni di emergenza uso dei dispositivi di protezione individuali e formazione ed informazione del personale addetto quindi come possiamo vedere anche dalla figura il rischio inizia con il carico e scarico dei mezzi movimento terra quindi i mezzi devono essere dotati di idonee cabine per l'operatore dotati di cinture di sicurezza veniamo alle misure di prevenzione indagini tecniche di stabilità nel caso di necessità di opere di scavo devono essere effettuate indagini preliminari e quindi topografiche, geologiche e geotecniche come abbiamo visto poco fa per definire le modalità di realizzazione la tipologia del fronte di scavo e le misure di prevenzione e questa è in relazione a alla destinazione d'uso la profondità e l'ampiezza e la tipologia del terreno il carattere provvisorio e definitivo dello scavo la presenza di acqua e o infiltrazioni estemporane sovraccarichi permanenti o eventuali al ciglio di scavo presenze di opere civile o industriali adiacente allo scavo e qui veniamo alle misure di prevenzione e quindi alle inclinazioni delle pareti di scavo alla seconda della tipologia del terreno poi bisogna vedere se le pareti sono asciutte, umide oppure bagnate mi sembra molto importante questo grafico guardalo bene, studialo poi abbiamo come si vede in figura finalmente le misure di prevenzione pareti di scavo secondo il declivio naturale che è questo poi le misure di prevenzione abbiamo la viabilità per accesso al fondo scavo ampiamente dimensionate con adeguata pendenza e invece nel caso di un cantiere come questo che può essere l'edificazione di un nuovo fabbricato abbiamo la barriera di delimitazione e protezione al ciglio di scavo e poi qui proseguiamo per gli scavi di pozze e trincee profondi più di un metro e cinquanta quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità anche in relazione alla pendenza delle pareti si deve provvedere man mano che procede lo scavo all'applicazione delle necessarie armature di sostegno e quindi in questo caso le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm qui hai proprio l'esempio pratico poi qui passiamo al metodo e la posa successiva sono schemi che però possono esserti tornarti utili qui invece abbiamo un metodo a taglio e spinta verso il basso ecco si procede in questo modo poi abbiamo il sistema palancole con cassero e con cassero porta palancole che è questo ecco con questo abbiamo terminato la lezione sugli scavi con le caratteristiche dei terreni e sistemi di protezione degli scavi quindi spero sia stato chiaro ti saluto e ti auguro buona giornata ciao 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 ciao